Maria, ti sento, ti sento, accetti la sfida? Accetto, accetto, accetto la sfida. Allora provo un po' a togliere quel drappo lì, cosa c'è? Maria ti fotocopio tutto, dimmi quante. Ma sei capace? Sì, ci provo Maria, imparo, imparo. Allora guarda, su un foglio bianco, c'è un foglio bianco con un pennarello, tu fai una dedica a Maria e fai subito una fotocopia, ti mettiamo subito alla prova. Guarda che ti giochi il futuro, eh? E come firmare? Perché sulla dedica devi stare attento, eh Tommy. Eccomi. Fotocopio? Cos'hai scritto? Cos'hai scritto? Maria, per te caffè fotocopie. Carino, bravo, bravo, già questo è una cosa brava, bravo, bravo, davvero bravo. Allora, inserisco. Io potrei farlo. E poi la fotocopiatrice, cioè piccola e grande puoi ingrandire, giusto? Sì, 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 sì. Quindi? Come la vorresti, Maria? Dimmi tu. Una piccola e una grande. Una piccola e una grande. Allora, aspetta. Tommy, è veloce, eh? Sì, 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 sì. Allora. Così. Allora. Aspetta. Non mi inceppare proprio ora, eh? Non mi inceppare proprio ora, non mi inceppare proprio ora.